Un operaio di 37 anni, Fabio Correale di Crutone, è morto domenica mattina mentre si trovava su una nave dove aveva appena concluso alcune attività per lo scarico di cippato, materiale utilizzato nelle centrali elettriche a biomasse del Crutonese. Correale, dipendente di una ditta specializzata in lavori portuali, al momento della morte aveva appena terminato il suo lavoro nella stiva e, secondo quanto riferito, pare stesse parlando con alcuni colleghi, nella stessa stiva quando si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo. Le cause del decesso potrebbero essere scaturite da un malore, ma sono comunque tutte da accertare. Sul posto, come scrive Anza, è intervenuto il medico legale per i primi rilievi sul corpo ed è stata disposta l'autopsia. Le indagini sono affidate alla Capiteneria di Porto di Crotone e, al momento, sono stati sottoposti a sequestro la nave, la gru utilizzata per le operazioni di scarico, e il cantiere della ditta. Correale si apprestava ad entrare nel corpo dei vigili del fuoco, dove aveva già operato del discontinuo. La vittima era molto conosciuta e sono state diverse le persone che si sono affollate all'esterno nel porto non appena si diffusa la notizia della morte.